Ciao ragazzi e bentornati sul canale di IronManager, quindi un altro video Q&A, quindi domanda risposta, requisiti relativi al programma di allenamento, dieta e integrazione che ho pubblicato sul mio blog ironmanager.it Il programma che ho pubblicato all'inizio di gennaio, quindi subito dopo le feste di Natale, si chiamava Filetto Fase 1, è un programma per uomini e per donne, ovviamente non personalizzato ma generico, comunque con diverse indicazioni anche per quanto riguarda le linee guida alimentari e anche di integrazione, oltre che la spiegazione dettagliata dell'allenamento di ciascun esercizio, con anche i video tutorial su come fare un'ottima esecuzione di ciascun esercizio. E la cosa interessante è stata che non appena ho pubblicato questa serie di e-books, quindi all'inizio di gennaio, molti mi hanno già chiesto subito se ci sarà un seguito, ovvero se ci sarà un programma più focalizzato alla fase di cosiddetta definizione, o comunque fase ipocalorica o di deficit calorico, dove cerchiamo appunto di migliorare la nostra composizione corporea e quindi perdere ulteriori punti percentuali di body fat, non so, per prepararsi a una gara o semplicemente per prepararsi alla stagione estiva dove si va in spiaggia e dove si vuole, diciamo, migliorare il nostro aspetto fisico. Devo dire che avevo già pensato a questo, il mio primo obiettivo era quello di pubblicare qualcosa ogni tre mesi, quindi a livello trimestrale, ho pensato di far susseguire a questo programma filetto fase 1, una fase 2, con programmi sempre per donne e per uomini, però con protocolli di allenamenti diversi da quelli proposti nella fase 1. Poi sinceramente ho pensato ai novizi, a quelli che si avvicinano a questo mondo del bodybuilding e fitness per le prime volte e volevo spiegare loro, far capire loro che un programma di cutting, un programma di definizione o un programma che mira al miglioramento della composizione corporea, ovvero cercare di bruciare più grasso possibile, preservare quanto più muscolo possibile, deve essere sempre pianificato sul medio-lungo termine, assolutamente non sul breve termine e quindi insomma non stiamo parlando qua di diete del sole o diete della luna, dei limoni che trovate sui magazine giusto a maggio, giugno, quindi poco prima di andare al mare, oppure alcuni video che trovate qui su YouTube che vi promettono di perdere 5 kg solo di grasso in 5 settimane, ecco queste sono gli ottie che sono continuamente divulgate online nel settore, nell'industria, ecco il mio approccio vuole essere il più scientifico possibile, vuole diciamo prendersi cura dell'atleta, dare delle linee guida che permettono quindi all'atleta di bruciare sì grasso e quindi di migliorare la composizione corporea, ma di preservare anche quanta più massa possibile. Abbiamo faticato tanto nei mesi invernali se volete o comunque nelle fasi precedenti a costruire filetto, costruire massa muscolare, perché rovinarsi tutto cercando di fare delle corse d'estate in pochissime settimane cercando di abbassare la percentuale di grasso, sappiamo benissimo che un natural bodybuilder o comunque un atleta che non fa uso di sostante, se cerca di fare le cose troppo in fretta ovviamente perde anche molta massa muscolare, quindi le cose devono essere programmate per tempo e quindi in questa nuova serie di e-books che pubblicherò, cercherò di dare indicazioni soprattutto per quanto riguarda la dieta. Nel programma precedente c'erano sì ovviamente indicazioni per la dieta con un approccio flessibile e sostenibile, in questa fase successiva invece cercherò di pubblicare qualcosa ancora di più sulla dieta, linee guida, per cercare di aiutarvi appunto a programmare il vostro deficit calorico graduale, perché ovviamente sappiamo che una perdita di grasso non avviene semplicemente così, sarebbe troppo facile, ci sono praticamente dei momenti di stallo e quindi anche cercherò di inserire alcuni suggerimenti con come migliorare e continuare la perdita di body fat, cercando come dicevo prima di preservare quanto più muscolo possibile. Ed è per questo come dicevo prima che invece di far seguire a filetto fase 1 una fase 2, quindi un altro programma di costruzione muscolare, ho pensato di lanciare subito, di pubblicare come appunto raccolta di e-books successivi, un programma invece finalizzato al miglioramento della composizione corporea, al programma se volete di definizione che chiamerò appunto Ripped and Shredded. Quando sarà pubblicato? Sto pensando a maggio, quindi per darvi tutto il tempo necessario appunto per ottenere i vostri obiettivi di miglioramento della composizione corporea e quindi di perdita di grasso e comunque di preservazione della massa muscolare. Quindi anche questo nuovo programma sarà disponibile gratuitamente sul blog ironmanager.it, molti ovviamente mi hanno posto questa domanda perché hanno pensato, ok Fran lancia questo freebie, questo programma gratuito filetto fase 1 a inizio anno e poi tutti i programmi successivi saranno a pagamento. Invece posso confermarvi anche qui che fin da adesso che anche il nuovo programma Ripped and Shredded, quindi questo programma orientato alla definizione muscolare, miglioramento della composizione corporea, sarà completamente gratuito e disponibile sul blog ironmanager.it. Perché completamente gratis? Beh l'ho spiegato diverse volte sul gruppo di Facebook, in diverse discussioni. Credo che il bodybuilding e il fitness mi abbia dato tanto, nella vita abbiamo insegnato tanto anche in contesti al di fuori dell'allenamento, della dieta e tutto il resto e quindi mi sento di dare qualcosa in cambio senza chiedere niente in cambio alla community. Per me è una passione, una passione molto forte, ho ricevuto tantissimi messaggi e per questo vi ringrazio dopo la pubblicazione di Filetto Fase 1, messaggi di interesse, messaggi di ragazzi che hanno provato il programma, che sono trovati molto bene, sono riusciti ad adattarlo alle loro attività quotidiane, anche nelle varie varianti per allenamento in casa o per allenamento in una palestra poco attrezzata. Quindi tutto questo mi fa molto piacere, mi rende felice condividere tutto questo con voi. Bene ragazzi, per oggi è tutto, quindi più che un video è stato un annuncio, vi rimando quindi a maggio per la pubblicazione di Rip & Shredded, questo nuovo programma Ironmanager per uomini e per donne, che comprende dieta, allenamento, integrazione, che è finalizzato al miglioramento della composizione corporea, quindi un approccio scientifico per cercare di bruciare grasso e preservare quanta più massa muscolare che si è costruita ovviamente nelle fasi precedenti di off-season o comunque ipertrofiche. Vi rimando di nuovo al blog Ironmanager.it, dove al momento potete scaricare il programma Filetto Fase 1, che ho pubblicato a gennaio. Il programma sia per uomini che per donne si sviluppa su 12 settimane, però prima di cominciare la fase di definizione, quindi che comincerà a maggio, potete tranquillamente fare 4 o 8 settimane, quindi 2 mesocicli, anche di questo programma di costruzione muscolare, per cominciare intanto ad abituarvi al modo di allenarvi a diversi tipi di protocolli, diversi tipi di tecniche per l'attivazione muscolare e per creare una maggiore connessione mente-muscolo per prepararvi poi alla fase successiva. Bene, come sempre se avete domande e dubbi scrivetemi qui oppure sul gruppo Ironmanager. Tanti fatemi sapere cosa ne pensate di questo annuncio del programma Rip and Shredded per la fase di definizione, se siete interessati e se seguirete questo programma. Poi per quanto riguarda il prossimo appuntamento qui su YouTube, come dicevo nei video precedenti, pubblicherò un video ogni martedì verso le 7-7 e mezza italiane, quindi iscrivetevi al canale, condividetelo con i vostri amici e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Bene, come sempre se avete domande o dubbi scrivetemi qui oppure sul gruppo Ironmanager. Tanti, fatemi sapere... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti.